Lo stivale è dito da Chiarelettere, è un titolo forte per un manuale, dice, di Deberlusconizzazione. Perché questo titolo? Perché rendeva l'idea del periodo, del linguaggio degradato, di alcune metafore legate al culo, per arrivare alle cose più trite, i ricucci del culo, la merca del culo, insomma, tante cose. Allora, una parolaccia sdoganata, che però non è solo una parolaccia sdoganata, ma è il segno di un degrado generalizzato, quindi il titolo dipende da quello. Ma qual è il concetto di Deberlusconizzazione? Allora, sulla soglia di molti comuni italiani c'è la scritta comune denuclearizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un comune che viene tolto dall'alone di coinvolgimento del nucleare. Proviamo a trasporre la stessa cosa, non tanto Berlusconi-Silvio, quanto il modo di intendere la vita berlusconiano, che ha fatto proseliti in questi vent'anni, ha fatto proseliti a destra, ha fatto proseliti a sinistra. Molta gente ha votato contro Berlusconi, ma si è comportato come lui o come quelli che lo votavano, quindi la differenza non era tanto, era solo nel voto, ma i comportamenti erano uguali. Deberlusconizzare significa porsi il problema di che significa stare al mondo oggi, in una società come questa, cambiare i valori, quindi il processo è profondo, importante e non riguarda solo Berlusconi che non è più a Palazzo Chigi oppure che magari non è più in politica, almeno in senso stretto, in senso pieno. È un processo culturale, antropologico, l'italiano così veramente è arrivato ai minimi termini. Da cosa è nata l'idea di questo libro? Da una domanda di fondo, come abbiamo fatto a ridurci così. Per rispondere a una domanda di questo genere non bastava ragionare di politica su Berlusconi, gli anti-berlusconiani, gli anni di Berlusconi perché bisognava andare più indietro nel tempo, bisognava capire come gli italiani, i padri e i figli sono oggi in questo Stato. E' quello che ho cercato di fare io risalendo al secondo dopoguerra e creando le condizioni perché uno potesse avere in un libretto che non è voluminoso il quadro d'epoca, e cioè un'Italia contadina che esce dalla guerra civile, poverissima, molto più povera di adesso, perché adesso ci si lamenta dello spread dei mercati e di alcune tragedie e di un dramma sociale ed economico che sicuramente è pesantissimo. Però il confronto con l'Italia degli anni, degli secondi anni 40, ci dice che in confronto siamo righissimi o perlomeno stiamo molto meglio. Ebbene, partendo da allora, mi sono rifatto a un'Italia contadina che è stata trasformata in una generazione scarsa, proprio a tappe forzatissime, in un'Italia industriale, con una cultura contadina di velta, sostituita da una cultura operaia, in un momento rapidissimo in cui la cultura operaia non è riuscita nemmeno ad attecchire che già stava sparendo e poi in quel buco, in quel cratere italiano, di tipo, ripeto, culturale, cioè per cultura non si sta dei libri letti, ma alla tedesca, alla cultura delle persone, la vita di tutti i giorni, cioè l'insieme delle cose che uno pensa, fa, sente, racconta, un po' tutto, e in quel buco, in quel cratere si è andata a depositare una massa informe, quella del consumismo e naturalmente la televisione ha svolto un ruolo fondamentale nella diffusione di questo modello di vita. Adesso siamo tutti con il Betzalcourt, quindi forse è il caso di domandarci che cosa fare per uscire da questo pantano. Durante la presentazione hai parlato appunto di questo buco e hai detto che alla fine del manuale hai supposto una soluzione a questa situazione di burco. Beh, intanto ci sono intanto indisprezzarvi forse le domande giuste, non come uscire dal pasticcio dello spread, dalla situazione europea, economica disastrata dell'Europa, della Grecia, dell'Italia, questa è una buona domanda, ma non è certamente la più urgente, ma non quella più importante. Il problema è che questo sistema regge ancora, di fondo bisogna domandarci se è questo che vogliamo. È possibile un sistema che ci chiede di guadagnare di meno e di spendere di più, forse c'è qualcosa che non va. Quindi a partire da queste, se volete, ovvie, banali, elementari considerazioni, io mi domando se questo sistema non sia la frutta. La risposta è sì, è la frutta, bisogna vedere che cosa ci aspetta dopo. Per esempio mi pongo domande nel libro sulla democrazia, se è un lusso ci possiamo permettere la democrazia, se questa è democrazia, se la democrazia è ostaggio dell'economia e del denaro, è ancora una democrazia comunemente intesa. La mia soluzione, ma io non faccio né il medico né il ricettologo, cerco di vedere le cose per come mi sembrano, senza ragionare su commissione per conto di nessuno. Forse qualcuno ricorderà che una volta a sinistra c'erano gli intellettuali organici, adesso non ci sono più gli intellettuali, non c'è più niente di organico e ci sono alcuni organetti che suonano delle musichette su richiesta. Ecco, io spero di non far parte di quella categoria, perlomeno non mi risulta. Bene, io metto al primo posto la salute. Ricominciare a ragionare in termini essenziali, in un paese che da tempo non distingue più il necessario dal superfluo, che invece deve ricominciare a distinguere il necessario dal superfluo, bisogna identificare il concetto di essenziale. cos'è essenziale per noi, qual è la cosa più essenziale che noi abbiamo? Per me è la salute con tutto quello che si porta dietro. Tu hai parlato di pace incivile, dalla quale è necessario uscire. Che cos'è la pace incivile e qual è la via d'uscita? La pace incivile fa il verso a quella guerra civile da cui è uscita l'Italia nel secondo dopoguerra. Siamo in pace, sì, certamente, ma è una pace incivile. È un paese imbarbarito, regressivo, che ha perso i connotati, l'identità, la memoria, non ha senso del futuro, è abbastanza per dire che è incivile e che quindi questa è una pace, per modo di dire, è una pace basata sull'inciviltà. Come uscirne? Ritorniamo al discorso dei valori, di che cosa mettere al primo posto, di rifare una piramide, una scala, una gerarchia. Io in questo libro ci provo. Nel tuo libro parli anche di Rai, che in questo momento è scosso dalle nomi e del nuovo CdA. Come vedi la salute di questa azienda? Questa azienda si è avviata sulla china dell'Italia da un pezzo. Ebbene, io dedico alla Rai due ampi capitoli. Uno si intitola Ginger e Freddi sono morti, rifacendo il verso a quel famoso film di Fellini che forse andrebbe fatto vedere nelle scuole. E l'altro capitolo successivo cita Cartesium a modo mio, lecco dunque sono. Quindi parlo di cosa potrebbe essere e dovrebbe essere la Rai, la principale azienda di comunicazione culturale, di idee, di circolazione di idee di questo paese. Questo paese, questa Rai, in questo paese fa circolare le idee? No. La sua mission, come dicono quelli che hanno studiato, insomma la sua ragione fondativa è quella di rendere migliore, più informata la vita degli italiani? Sì. O eppure è invece una tv commerciale che deve vendere dei prodotti? Ormai è ridotta solo a questo. Forse bisogna ritornare, lo dico nella quarta di copertina del mio libro, bisogna avere il coraggio di tornare avanti, che vuol dire non tornare indietro, ma vuol dire riprendere le cose valide indietro per andare avanti. Gli ultimi risultati elettorali. Il Movimento 5 Stelle ha avuto un grande successo, forse inaspettato, forse no. Pensi che questo sia la conseguenza dei recenti scandali che hanno travolto la politica, oppure potrebbe essere sintomo di un cambiamento da parte dell'elettore che vuole qualcosa di nuovo? Le due cose potrebbero tranquillamente coincidere, però il punto è che il Movimento 5 Stelle e Beppe Grillo non sono nati ieri. Da come lo raccontano sembra che adesso, quest'inverno, ci sia stato in mezzo a questi scandali qualcuno che si è organizzato e ha detto andiamo alle amministrative come una gita fuori porta. Non è così. Io ho scritto un libro 5 anni fa, proprio 5 anni fa, uscito nel maggio del 2007, intitolato Italiopoli, con prefazioni di Beppe Grillo, in cui c'era già tutto quello che sarebbe successo dopo. Quindi bastava stare attenti. In realtà nessuno sta attento, non hanno memoria e usano truffaldinamente il caso Grillo di adesso per non parlare di loro. Sono furbissimi. Il problema è se ancora la gente ci casca. Pare di no, visto che votano Grillo. Ma naturalmente io sono disponibilissimo a ragionare sulle caratteristiche positive e eventualmente anche su quelle negative di Grillo, ma solo dopo che questi se ne siano andati a casa. Questi dovrebbero essere unificati a proposito della RAI che hanno invaso. Dovrebbero venire a dirci sì, è vero, siamo stati noi. L'abbiamo ridotto così in questo stato. Perché loro, tutto sommato, stanno bene a quanto pare. Beh, sono una casta, non a caso. Beh, noi pari agli intoccabili, perché chi non fa parte del palazzo o del sottopalazzo, del residence del potere, non c'ha delle difficoltà. E in questa crisi ne avrà sempre di più. Ebbene, quelli che stanno oltre i merli delle torrette all'interno del palazzo e del residence si devono, mi dispiace, si devono esporre a un'auto da fe, devono dire che sono stati loro, perché se no non si capisce chi è stato. Un'ultima domanda, forse banale, però mi è venuta in mente se intendo parlare di salute. Ma secondo te qual è la salute del nostro paese? Pessima, anche perché non c'è un'idea di salute. Quindi bisogna ricominciare ad avere un'idea di salute per avere la salute.